Sfida all'ultima della classe per ripartire ancora più forte di prima, fresca di KO nello scontro diretto di Martina, la team Altamura ospita il fanalino di coda Santa Maria Cilento per tornare a macinare punti dopo una battuta d'arresto che piaccia o meno, visto il trend delle ultime uscite poteva anche starci. Da un lato il rammarico di non aver definitivamente chiuso i giochi per la vetta, che resta comunque blindata con 7 punti di vantaggio sui biancazzurri, dall'altro un calo fisiologico sul campo della diretta inseguitrice, specialmente dopo 18 risultati utili di fila e un tour de force da 6 clean sheet consecutivi. La gara ai Cilentani andrà comunque presa con le pinze, al D'Angelo arriva una squadra in pessima forma ma che ormai non ha più nulla da perdere, con pagine probabilmente ancora più stimolata dal voler fare bella figura sul campo della capolista. Una di quelle potenziali trappole da cui i murgiani devono sfuggire per mantenere questo velo di tranquillità in vista del fatidico 5 maggio. È vero, il Santa Maria è a secco di vittorie da 10 gare, ma la team è chiamata ad evitare specialmente il rischio di incappare in un altro dei tanti pareggi rimediati in questo cammino. Giacomarro ha predicato calma dopo la sconfitta di domenica, calma che non deve però tramutarsi nel relax visti i 7 punti di distacco e l'avversario più abbordabile del torneo. A Corsin Massal Tursi i tifosi biancorossi sono pronti a gremire nuovamente il D'Angelo, un testa coda che deve essere sfruttato al massimo, ritrovando entusiasmo e ponendo un altro piccolo mattoncino verso la realizzazione di quel sogno che comincia con la lettera C.